Salve a tutti Giovanni Droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi di uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo di Star Wars, del quale tutti quanti siamo tornati a parlare, diciamo così, dopo le vicende del sesto episodio della serie live action The Book of Boba Fett. Un personaggio che, come detto, compare in moltissime altre opere di Star Wars e soprattutto ha preso parte a tantissime vicende iconiche all'interno della grande storia galattica. In questo video vi parlerò delle sue caratteristiche, delle sue imprese più importanti e soprattutto della sua concezione. Ovviamente più avanti saranno presenti forti spoiler del sesto episodio di The Book of Boba Fett, quindi se non lo avete ancora recuperato, tornate a vedere il video dopo averlo fatto. Vi presento ora tutte le caratteristiche e le curiosità di Cad Bane dopo la sigla. La prima apparizione di Cad Bane risale al ventiduesimo episodio della prima stagione della serie animata The Clone Wars, intitolato Hostage Crisis, in cui il cacciatore di taglie dà subito sfoggio della sua astuzia e soprattutto della sua esperienza. Ma partiamo dagli albori. Cad Bane è un alieno di razza Duros dalla pelle blu. Canonicamente, infatti, sappiamo che i Duros potevano assumere varie colorazioni, tra i quali c'erano appunto il verde, il blu, eccetera. Un Duros che nel corso della sua vita, sin dai primi anni, aveva deciso di intraprendere, diciamo così, la carriera di cacciatore di taglie. Canonicamente sappiamo che egli è nato intorno al 62 BBY e perciò durante gli eventi delle guerre dei cloni, egli aveva già 40 anni ed era già un cacciatore di taglie affermato ed esperto. Questo ci fa capire che durante la sua prima apparizione in live action nella serie The Book of Boba Fett, egli ha circa 70 anni, e un indizio particolare in merito alla sua età avanzata potrebbe darcelo il fatto che la sua pelle, che nelle serie animate è di un blu elettrico, nella serie live action invece sembra molto più pallida. Cronologicamente, la prima opera in cui compare Cad Bane è la miniserie a fumetti Darth Maul, ambientata nel 32 BBY circa, e cioè poco tempo prima le vicende della minaccia fantasma. In questo periodo storico Maul, come apprendista di Darth Sidious, fremeva della possibilità di scontrarsi con i Jedi. Il suo maestro però ovviamente lo frenava, aspettando il momento giusto per agire. E perciò il datomiriano che, come detto, voleva assolutamente confrontarsi con i Jedi, era riuscito a mettere in piedi un piano per catturare una particolare Jedi, con la quale potersi confrontare. E in questo piano egli aveva coinvolto dei cacciatori di taglie, tra i quali si trovavano proprio Cad Bane e anche la famosa Aurra Sing. Questo ci permette di capire che già all'età di 30 anni più o meno, Cad Bane era un cacciatore di taglie affermato, e che la sua popolarità crebbe a dismisura soprattutto dopo la morte di Jango Fett avvenuta nel 22 BBY, e cioè all'inizio dello scoppio delle guerre dei cloni. Proprio questo conflitto segnerà la sua definitiva consacrazione nel panorama del sottobosco criminale della Galassia, poiché nel corso delle vicende della serie animata The Clone Wars, egli sarà soldato più volte da moltissimi personaggi importanti, tra i quali appunto Darth Sidious, Jabba the Hutt e proprio lo stesso Conte Duku. Oltre ad essere, come detto, un cacciatore di taglie esperto e astuto, Cad Bane si differenziava dagli altri per il fatto che era capace di tenere testa ai Jedi. Una caratteristica molto importante, soprattutto durante le guerre dei cloni, e che dimostrò più volte scontrandosi con Jedi del calibro di Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Quinlan Boss. Come detto, egli è presente nel corso di tutta la serie animata The Clone Wars, ed è protagonista di moltissime vicende chiave di questo prodotto e di questo periodo storico. Tra tutte possiamo ricordare quando egli fu assoldato da Darth Sidious per rubare dal Tempio Jedi un particolare artefatto che mostrava tutti i bambini sensibili alla forza. Sempre in merito alle imprese per cui era stato assoldato da Darth Sidious, dobbiamo inoltre annoverare quella avvenuta dopo che il cacciatore di taglie riuscì a impossessarsi dell'Holocron del Tempio Jedi, e cioè quella del tentato rapimento dei bambini sensibili alla forza, che Darth Sidious voleva sfruttare per un esperimento su Mustafar, un qualcosa che vedremo anche in molte altre opere di Star Wars. Allo stesso modo, come detto, egli fu assoldato anche da tanti altri personaggi, tra i quali possiamo annoverare ad esempio Jabba the Hutt, che lo assoldò prima per liberare suo zio Zero the Hutt, e in secondo luogo invece per eliminarlo. Egli però in questo caso si trovò in una situazione molto più complessa del previsto, nella quale, come detto, dovette confrontarsi con i Jedi Obi-Wan Kenobi e Quillan Boss. Cad Bane fu anche protagonista di un particolarissimo gioco mortale orchestrato dal conte Dooku, che oggi potremmo tranquillamente definire lo Squid Game di Star Wars, dove non solo riuscì a sopravvivere con successo, ma in base ai suoi successi fu assoldato da quest'ultimo per il rapimento del cancelliere Palpatine. In tutti questi eventi Bane era assistito dal suo droide Todo 360, che in più occasioni fu distrutto e poi ricostruito. Un punto cruciale dell'esperienza di Cad Bane fu quello avvenuto alla fine delle Guerre dei Cloni, quando in un periodo imprecisato cominciò ad addestrare il figlio di Jango Fett, e cioè appunto Boba Fett. In alcuni archi narrativi mai realizzati di The Clone Wars possiamo vedere un fantomatico duello che avvenne proprio tra Cad Bane e il suo allievo Boba Fett, un duello nel quale quest'ultimo ebbe la meglio. Fino a qualche tempo fa, soprattutto fino alla sua riapparizione nella serie animata The Bad Batch, tutti quanti quindi pensavamo che Cad Bane fosse stato eliminato in questa sequenza. In The Bad Batch invece non solo vediamo che egli ricompare, ma nella serie possiamo notare che sulla testa ha una placca metallica, che sta a significare che il duello probabilmente è avvenuto off-screen e che le conseguenze lo hanno portato proprio a quella ferita. La sua riapparizione in The Bad Batch è molto importante e avviene poco dopo la creazione dell'Impero Galattico e dopo la fine delle Guerre dei Cloni, quindi più o meno sempre nel 19 BBY. In questo caso egli era stato assoldato dal primo ministro di Camino Lamasù per poter catturare il clone puro di Jango Fett, Omega, che era la sorella di Alpha, e cioè Boba Fett. Egli era riuscito a raggiungere la Clone Force 99 su Bracca e dopo aver messo al tappeto una squadra di cloni imperiali e soprattutto l'espertissimo Hunter era riuscito a catturare Omega. Nonostante questo però, grazie soprattutto all'intervento di Fennec Shand, la ragazza era stata liberata e si era ricongiunta con la Clone Force 99. In questo frangente possiamo apprezzare anche un'altra caratteristica di Cad Bane, e cioè quella del duello corpo a corpo. Anche se come avrete capito, soprattutto da The Book of Boba Fett, la sua specialità erano i blaster. Ma ovviamente ci arriveremo. E passiamo proprio a vedere le sue vicende all'interno della serie live action. E facciamo un salto temporale davvero considerevole, perché dal 19 BBY ci troviamo invece nel 9 ABY, e cioè ben 28 anni dopo le vicende di The Bad Batch, in cui troviamo un Cad Bane che in questo caso lavora per i Pike, o molto probabilmente per qualche altro nemico potente al di sopra del sindacato Pike. Come vi ho già accennato all'interno della videorecensione del sesto episodio di The Book of Boba Fett, il debutto in live action del personaggio è davvero ottimo e soprattutto non delude le aspettative, poiché seppur in là con l'età, come vi ho spiegato, Cad Bane rimane un cacciatore di taglie, espertissimo e soprattutto quasi invincibile in quella che è la sua specialità, appunto i duelli con i blaster. Per tutta la durata della sequenza in cui compare, possiamo sentire le vibes dei film western di Sergio Leone. In realtà il personaggio stesso è nato tramite un'ispirazione importante dei film di Sergio Leone. Cad Bane infatti è ispirato al personaggio di Lee Van Cleef all'interno della storica pellicola Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Ai tempi della sua concezione infatti Dave Filoni cercava un cacciatore di taglie da inserire all'interno di The Clone Wars e la prima idea era quella di reintrodurre il cacciatore di taglie legendai d'Urge, idea che però poi fu accantonata in favore di un altro cacciatore di taglie che avesse più un piglio western. E per questo motivo nacque la figura di Cad Bane, facilmente riconoscibile in base ad alcune caratteristiche importanti. In primis il suo amore viscerale per i cappelli a grande visiera, che molto spesso rubava anche alle sue povere vittime e soprattutto per il fatto che amava masticare, diciamo così, degli stuzzicadenti. In questo caso invece è un rimando all'iconico personaggio interpretato da Clint Eastwood. L'arsenale di Cad Bane non aveva davvero niente da invidiare a quello dei mandaloriani e come per questo fierissimo popolo era un arsenale pensato soprattutto per tener testa i jedi durante il combattimento. Oltre ai suoi due iconici blaster LL-30, egli infatti era dotato di guanti elettrificati, di un lanciafiamme e addirittura di razzi con i quali poteva spiccare il volo in ogni momento. Ma soprattutto, e sono sicuro che vi sarete sempre chiesti la loro utilità, egli aveva due tubi che fungevano da strumento antisoffocamento per il force choke. Cad Bane era anche un ottimo pilota e nel corso della sua carriera pilotò, durante gli anni delle guerre dei cloni, un caccia stellare di classe Rogue Porax 38 chiamato Xanadu Blood, una nave davvero velocissima, mentre dopo la fine della guerra pilotò una nuova nave chiamata Justifier. Nel corso degli anni questo iconico personaggio ha fatto breccia nel cuore di tutti i fan di Star Wars, per il suo atteggiamento, per i suoi modi di fare, ma soprattutto per la sua abilità di cacciatore di taglie, che lo hanno reso uno dei più temuti della sua generazione, già a partire dalle guerre dei cloni. Ed è proprio il caso di dire che ciò che gli mancava era solo il debutto in live action, che finalmente è avvenuto nella serie The Book of Boba Fett. E a questo punto non vedo l'ora, come sono sicuro anche voi, di vedere tutti gli sviluppi riguardanti il personaggio, soprattutto in merito a quello che sicuramente potrà essere un eventuale scontro con il suo ex allievo barra nemico Boba Fett, uno scontro che si preannuncia pieno di colpi di scena. In descrizione trovate tutti gli archi narrativi e gli episodi di The Clone Wars e delle altre opere in cui compare. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo iconico personaggio e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!